Salve, prego, benvenuta, si, ok, un profumo, e è per lei o è un regalo? Ecco, ok, allora le chiedo gentilmente di descrivermi la signora in questione e il suo budget, e se magari conosce più o meno i profumi che le piacciono, così possiamo andare un pochino più su sicuro. Ah, ok, ok, esatto, abbiamo questa promozione che se lei ci restituisce un boccetto vuoto le facciamo 10% di sconto, sì, ok, quindi l'anno scorso lei si era comprata questo. Quindi mi stava dicendo una donna distinta, elegante, che si fa proprio il bagno nel profumo immagino, ok, no, non c'è problema, e sì, ma qui dipende, possiamo avere 50, 75, 100, addirittura un 125, insomma dipende il suo budget. Ok, ci stiamo tranquillamente, non si preoccupi, ok, quindi con questo bozzettino avrà già 10 euro di sconto, e poi se ha la tessera fedeltà, ce l'ha, ok, avrà un ulteriore sconto del 15%, quindi un super affare. Ok, allora partiamo, le descrivo questo così dopo le faccio capire anche perché le suggerisco agli altri. Questo è uno dei profumi più costosi tra l'altro che ci siano, questo è un 50, quindi vuol dire che le vanno bene in realtà anche 50 ml nel caso. Ed è Shador di Dior, è un classico, ed è il tipico profumo fruttato, fiorito, con delle piccole notte legnose, ok. Quindi, esatto, tra l'altro questo pack è molto bello perché è ispirato a una tribù africana, non mi ricordo adesso il nome, quelle tribù in cui le donne tipicamente si mettono degli anelli sul collo per allungarlo. Brutta cosa, però, è ispirato a questo, e comunque il pack è molto bello, molto semplice, con questo agozzo, con questo agozzo in vetro e il collo in oro. Ok, quindi, in base a questo, quindi, in base a questo, volevo un attimino proporle, andiamo sempre su marca e comunque è high cost, ok. Quindi, posso avere questo, questo è della Cartier, e si chiama la Pantera, quindi la Pantera, perché? Perché non so se riesco a vederlo, mi avvicina un ottimo. Non so se riesce a vederlo, ma agli occhi, la Pantera è il muso qui, è lì. Quindi, il pack è caratterizzato da queste, diciamo, zigrenature, inoltre, proprio, ha la forma del, diciamo, muso, della Pantera, quindi è molto, molto elegante e raffinato, ma stiamo parlando di cartier sempre. In generale, i pack dei profumi che hanno un costo elevato sono molto belli. Allora, quindi, questo è un profumo fiorito e selvaggio. Prenda pure. Esatto, sì, sì, sì. Non le farò sentire profumi che, diciamo, hanno una nota molto, molto forte, ma voglio un qualcosa di, un profumo molto corposo, molto tonno, in cui tutte le note che sono all'interno si, si equilibrano. In questo caso abbiamo, quindi, un sapore più fruttato e legnoso, infatti. Ad esempio, nella nota di cuore abbiamo il muschio. E nelle note di testa abbiamo fragola, frutti di bosco. Sì, è molto dolce, dura abbastanza, devo dire. È molto buono da tutto questo punto di vista. E abbiamo solo il 50 e viene, mi sembra, 80 euro. Sì, con lo sconto del 15, esatto. No, però, hai 10 euro, 70 euro. Hai 10 euro, esatto. In questo viene 70 euro ed è buonissimo. Questo glielo consiglio assolutamente. Molto elegante. Sì, diciamo che poi il bello di questi profumi è che anche si tengono le confezioni e fanno un po' da decoro anche per il bagno, per la camera da letto. Molto raffinato. Poi abbiamo il gucci bambù. Questo è il testa, mi è quasi finito, ne devo ordinare un altro. Comunque dovrei riuscire a farglielo sentire. Questo invece, allora partiamo sempre dal presupposto che è sempre fiorito, fruttato e leggermente legnoso. In questo abbiamo come nota di fondo il legno di sandalo. E come nota di testa il bergamotto e un fiore che si chiama Lilium Casablanca, come cuore. Sì, poi ci sono ovviamente altri ingredienti, però noi non possiamo saperli tutti. Sì, esatto, giustamente. E questo è fatto proprio a diamante, diciamo così, a pietra preziosa. Ha questi angoli, molto molto bello anche questo pack. Glielo faccio vedere da vicino. Eccolo qui. L'abbiamo scritto gucci bambù. E' un detualetto. Ed è 50 ml. Molto bello, sta anche così. Ok. Quindi, siamo sempre sulle stesse note e io lo faccio sentire. Ok. Che lo dicevo, ce n'era ancora un po' di profumo. Ecco qua. Ecco qua. E l'appoggio qui. Potrei sentirlo quando vuole. Li sto mettendo in ordine, così dopo non ci confondiamo. Le piace già un po' di più. Questo è uno dei più venduti, veramente. Il pack è molto molto bello. E anche il profumo è veramente buonissimo, buonissimo. Questo è leggermente più legnoso rispetto all'altro. Un po' meno fruttato, un po' più fiorito. Esatto. Quindi, il primo cartie lo scartiamo già. Va bene. Poi, abbiamo questo profumo qui, di Ralph Lauren, che si chiama Safari. Questo ha delle note molto più legnose rispetto agli altri. Infatti, anche, non so, Safari è un profumo un po' più selvaggio, ecco. Ed è rinfrescante. Contiene ribes nero, aranzo, gelsomino, rosa, legno di cedro e legno di sandalo. Quindi, sì. È molto molto persistente. È abbastanza forte, però. Ve lo volevo fare vedere perché, secondo me, può essere un profumo un po' più particolare. Ma che si sente tantissimo. Insomma, dipende poi dalla persona quanto le fa piacere anche che gli altri sentano il suo profumo. Perché alcune persone lo fanno anche proprio perché si senta, si sente la striscia di profumo. Invece altri, semplicemente, per sentirlo, per sentirsi un po' più belli, insomma. Dipende. Ok. Quindi. Il pack di questo abbiamo la R di Revlore. Adesso glielo faccio vedere un po' meglio. E abbiamo tutte queste ziglinature del vetro molto bello. E questa è un'edizione limitata. E infatti era, pensi, riuscito nel 1989. E l'hanno fatto uscire per il trentesimo anniversario, quindi nel 2019. Io vado a sentire. Questo può essere addirittura appunto un pezzo da collezione. Un po' troppo forte. Forse, ok. No, guardi, perché questo glielo ho fatto vedere appunto perché essendo un'edizione limitata era bello da avere. Sono una persona veramente appassionata di profumo. Però lo scartiamo se, insomma, prima di tutto deve fare il profumo, ecco. Ok. Quindi per ora, ricapitolando, Goji Bamboo è in prima fila. Ok. Poi vediamo un po'. Andiamo con due Lancome. Io ne propongo altri due, poi basta. Perché purtroppo abbiamo finito i chicchi di caffè, quindi non posso farle recuperare un po'. Le olfatte dopo un po' sentirebbe un po' un misto di tutto. E non va bene. Ok. Allora. Questo è un esempio invece di un profumo da 125 millilitri. Ok. E questo è O. E questo è O. Di Lancome. O. Di Lancome, in realtà. E il pack è caratterizzato da un tappo in plastica pura. E invece il resto è D. Quindi abbiamo una O. È la francese. E qui dietro abbiamo una serie di signature molto semplici. che hanno anche questo per suono. Ok. Questa ammetto che è più una fragranza primaverile. è descritta come fresca e tonificante. E ha dentro, ad esempio, aranzo, erbe, miele e gensumino. Questo, essendo un 125, quindi veramente molto 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 prodotto, viene 190, 100 sempre scontato con la fideli di carta. 90 con lo sconto di 10 euro del pozzotto. Ok. Sentiamolo. Ok. Esatto, glielo metto qui di fianco. Sì. È proprio più, diciamo, più forte. Si sente proprio più forte, più fresco. Sì, come può essere dello stile giusto. Però per lei ho l'ultima proposta. In realtà adesso mi sono pentita di averla scelta come ultima perché avrà l'olfatto un po' compromesso. Però, le dico, secondo me quest'ultima sarà la sua scelta perché è buonissima. Ha del bagno molto bello. E sto parlando Del profumo della Lancome La Vie est Belle In rose E infatti è, diciamo, un'edizione diversa dal semplice La Vie est Belle Sì, c'è appena arrivato. Lo puoi notare è bello via. E questo pack Io lo faccio vedere da vicino. Questo sì È da 100 Ed è un Odette Toilette, mi sembra. Esatto, è un odette toilette. E Molto grande Ha questo, diciamo, doppio pack Tipo Un bicchiere Con quelli che dobbiamo si vede che finisce dopo c'è solo il vetro Personalmente io adoro questo tipo di pack a chic Qui Ha una specie di folare Come per Imitare la donna a cui rivolto L'eleganza E qui ha una sfumatura Anche questo, come il profumo J'adore È il tipico, tipico, tipico profumo Fruttato fiorito Con una leggera lotta legnosa Alla fine, proprio leggerissima E È adatto quindi a Tutte le stagioni, davvero E è pensato per tonare Eleganza A un cuore di peonia È rosa Sì Sul tappino dello spray c'è scritto la via bella Ok Proviamo quest'ultimo Lo sento, sa? È questo perfetto Si sente, si sente Oh, ve lo dicevo Quindi Adesso Le lo metto di fianco A quello di Gucci E li può sentire uno dietro l'altro Per capire Quale le piace di più Gucci va pure Per rimascarle un po' la mente Questo qui Sono due bag molto diversi Mi piace un po' più questo direi Anche se entrambi sono veramente bellissimi Mi avvicino Questo è Gucci E questo è Lancome Ok Lancome Perfetto Io le dicevo che poi non avevo dubbi Onestamente Sul fatto che avrebbe scelto Il Lancome È uno dei miei preferiti in assoluto Come profumo La signora Il Lancome In generale È una delle marche Che mi piace di più Per i profumi Insieme a Gucci Perché Sono veramente Rispecchiano più i miei gusti E sono molto buone Anche per i profumi Un po' più giovanili Ok Le mostro già Il pack Secondario C'è già Come vede Il profumo dentro E Questo pack Un po' lucido Con Questo Rosa Molto elegante Sempre lucido Perfetto E ha scritto La Vi E Belle E Ecco De Toilette Lancome 100 Ti ho detto quanto viene? Ok Questo viene 100 Con anche lo sconto Del 10 Del 10 euro Questo Perché appunto Un 100ml Di 3 Ok In realtà Non costa neanche tanto Dietro c'è Ci sono le applicazioni d'uso Insomma Così Abbiamo anche Il nome del profumo In braille Ok E qui abbiamo Appunto La filosofia Diciamo Dietro E Questo profumo Che è fatto appunto Per dire La vita è bella E Una filosofia Di vita E di gioia E Un'universale Una dichiarazione Universale Alla bellezza Della vita Ok Adesso Le faccio Il pacco regalo E Dopo andiamo in cassa Va bene Le metto anche Due o tre Campioncine Nel sacchetto Se Li può tenere a lei Oppure li può dare Alla diretta interessata Ok Va bene Ok Grazie. Ok, posso mettere questo. Questo è il diafane. Questo, ok. Ok. E vediamo. Ok, eccoci qua. Quindi, se mi do prima la carta fedeltà. Ok. Grazie. Ecco qua. E grazie. Il pin, prego. Ah, perfetto. Allora questo è il suo pacchetto. Io la ringrazio e spero di rivederla presto qui. Arrivederci, buona giornata. Concentrati su questo libro che hai tra le mani. Senti nella consistenza il materiale. Chiudilo. Soppesalo. Ora, lascia scorrere le pagine tra le dita. Ascoltane il rumore. Sentile sotto i polpastrelli. Allora. 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 assiccia. Vaciuto.